Abbiamo verificato insieme con la sua struttura e la sua persona uno stato avanzato di procedure, di attuazione, di schede relative al patto per il Sud, volendo significare che c'è un'attività amministrativa e non solo di programmazione che oggettivamente recupera momenti di concretezza. Abbiamo stabilito un cronoprogramma in cui continuiamo a verificare lo stato d'avanzamento sulla spesa, ci rivedremo tra 40 giorni e sono particolarmente soddisfatto per il lavoro fatto dagli uffici, dal nostro direttore generale alla programmazione e sono anche molto contento per aver abbracciato Claudio De Vincenti, che ho avuto modo di conoscere, sono vice ministro alle attività produttive al Mise all'epoca, quando ebbi modo di vivere e condividere anche criticità su crisi industriali importanti e trovarlo qui oggi su Matera ad abbracciare la Basilicata da ministro del Sud. Soddisfatto il governatore della Basilicata, Marcello Pittella, a conclusione della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione del patto per lo sviluppo della regione Basilicata, alla presenza del ministro per la coesione territoriale Claudio De Vincenti. Presenti al tavolo il sindaco di Matera, gli assessori Franconi, Braia e Benedetto, il consigliere Santarsiero, funzionari e dirigenti della regione Basilicata. Sugli interventi avviati positivo il giudizio del ministro per la coesione territoriale. Sono stati avviati 70 interventi tra quelli previsti nel patto con una mobilitazione di risorse di quasi 360 milioni di euro sul fondo sviluppo e coesione che significa più di metà della dotazione del fondo sviluppo e coesione a disposizione del patto ma contemporaneamente sono stati anche avviati interventi con le altre fonti finanziarie previste dal patto per esempio con i fondi strutturali europei, il programma operativo regionale. Quindi il patto sta marciando, sta marciando bene con interventi concreti. Nel corso dell'incontro la regione ha tracciato uno spaccato puntuale e preciso delle operazioni messe in campo e di quelle che si intendono programmare in una proiezione temporale che contempli il primo e il secondo semestre del 2017. Il patto ha osservato De Vincenti e può offrire opportunità in diversi settori. Sia sul versante della ripresa delle attività produttive e dove le produttive intendo non solo l'industria o l'agricoltura ma penso per esempio a tutto il tema della cultura e della cultura come perno di attrazione per il turismo e per il turismo che abbia come riferimento i beni artistici della Basilicata ma anche le bellezze naturalistiche della Basilicata. Da questo punto di vista Matera 2019 che è stato un altro argomento di discussione oggi svolgerà un ruolo assolutamente importante di Traino. Questo avrà risultati sia sull'andamento economico della Basilicata che ricordo è stata al vertice del tasso di crescita del PIL in Italia nel 2015 e 2016 sia sull'occupazione che è tema fondamentale e centrale per tutto il mezzogiorno. All'ordine del giorno l'analisi dei progetti individuati come immediatamente cantierabili e realizzabili l'individuazione delle azioni di supporto necessarie al superamento di eventuali criticità per un rapido avvio delle opere e dei progetti la condivisione di un cronoprogramma per le attività di verifica del Comitato al fine di monitorare lo stato di avanzamento degli interventi. Tra i settori prioritari individuati l'agenda digitale, la rete stradale infrarregionale e regionale, la riqualificazione ambientale, il rafforzamento e potenziamento della sorveglianza ambientale, il recupero e la valorizzazione di attrattori culturali, i programmi Matera 2019 e Basilicata 2019. La regione Basilicata ha anche lanciato idee sulle modalità di concertazione con ANAS sul fronte della progettazione. Se noi dobbiamo far presto abbiamo bisogno che la progettazione sia più veloce per poi passare alla seconda fase che è quella della realizzazione. Se la progettazione è in capo ad ANAS, dobbiamo con ANAS stabilire un cronoprogramma fitto e dobbiamo irrobustire e mettere in condizioni ANAS di poter fare in tempo dato, celere possibilmente, quella progettazione. Altrimenti se dobbiamo collegare Matera a Ferrandine e a Potenza su strada o parlare della Potenza Melfi o della Basentano o della Murgia Pollina abbiamo bisogno di accelerare. L'ANAS è un po' l'artefici di questa accelerazione, dipende esattamente dal colloquio che avremo per poter trovare soluzioni che rendano più rapide le procedure. Per quanto riguarda Matera 2019 sono stati previsti circa 10 milioni di euro di interventi, 3,7 per il completamento del campus universitario e 7 milioni per azioni materiali e immateriali. Il patto in Basilicata sta marciando bene con interventi concreti. Il Sud cresce quindi al netto dei contributi del settore energetico. C'è tutto un Sud, compreso molte realtà produttive qui nella Basilicata che cresce anche indipendentemente dal settore energetico eppure ovviamente è importante. L'analisi della Svimez o anche quella del Centro Studi Confindustria più recente ci fanno vedere un mezzogiorno e una Basilicata dove crescono attività di eccellenza e di avanguardia sul piano tecnologico, dell'innovazione e della presenza sui mercati internazionali che fanno sì che esiste un tessuto produttivo da cui bisogna partire. Non basta ma si parte da qualcosa di vero e di solido. Nel corso dell'incontro il governatore Pittella ha chiesto anche l'istituzione di una banca progetti sul dissesto idrogeologico e sulla sicurezza dell'edilizia scolastica con un fondo di rotazione con la regione a fare da garante. Un'idea creativa che consentirebbe ai comuni di accelerare la spesa. Noi ci rendiamo conto che una banca progetti oggettivamente ci manca. E allora individiamo due grandi settori, il dissesto idrogeologico e l'edilizia scolastica per la sicurezza o per l'efficientamento energetico. Noi possiamo dire che i comuni destinatari di contributo regionale per il dissesto idrogeologico secondo la piattaforma Rendis nazionale che prevede una serie di requisiti possono procedere alla progettazione esecutiva e dunque poi alla gara attivando presso l'istituto di credito un fondo di rotazione. La garanzia del pagamento di questo fondo di rotazione è in capo alla regione qualora quel progetto non verrà finanziato. Se verrà finanziato sarà il comune che con un fondo di rotazione negli anni potrà pagarlo la progettazione. Mi sembra un'idea creativa che consente ai comuni e alla regione di accelerare spesa, di creare condizioni anche di economia, di dare ricadute veloci e un po' di creatività che non...